Salute ragazzi e bentornati a questo prossimo video, sono sempre io Blueis e in questo video ragazzi vi farò vedere come mettere le acco su Fortnite No sto scherzando, non vi farò vedere come mettere le acco su Fortnite perché mi vanno il canale e non lo so fare Però comunque in questo video vi dirò praticamente delle notizie e praticamente se è possibile mettere le acco su Fortnite Allora so cosa state pensando, state pensando che io abbia già fatto questo video, è questo vero, io l'ho già fatto Ma il problema è che qualcuno mi ha segnalato il video, mi sa che era l'autore del video perché gli avevo preso la clip anche se avevo messo il suo canale in descrizione E c'è scritto copyright free, però beh questi sono dettagli E comunque niente mi hanno segnalato e quindi mi hanno strackerato il video E niente ragazzi in questo video vi dirò se è possibile mettere le acco su Fortnite Allora ragazzi come premessa vi dico di non usare mod oppure le acco perché comunque è una cosa illegale E niente non fatelo, non raccomando a nessuno fare queste cose quindi niente non ascoltate quello che dico E come si fa a mettere le mod su Fortnite o le acco come volete chiamarle E' possibile ragazzi, c'è un sito che spiega praticamente come mettere queste acco su Fortnite E' possibile però bisogna pagare, bisogna pagare per queste mod, anzi per queste acco non so perché le continuo a chiamare mod Le dovete pagare e riceverete questo tra parentesi mod menu su Fortnite Vabbè poi vi spiegheranno come installarlo e metterlo all'interno del gioco Quindi si è possibile, ci sono dei siti ovviamente che non vi dirò qua nel video perché prima di tutto non li conosco Secondo, non mi interessa pubblicizzare questi siti E terzo, è illegale mettere acco su Fortnite, lo ripeto ancora quindi non fatelo perché è successo già che praticamente Epic Games è andata al tribunale Perché c'era un bambino che usava le acco, vabbè forse vi racconterò questa storia in futuro Ma mi sa che la maggior parte di voi conosca già questa storia quindi non la sto a raccontare Cosa mai fatemi sapere qua nei commenti se volete che vi porto la storia completa Niente quindi si è possibile mettere acco su Fortnite però dovete pagare Probabilmente ragazzi se userete acco su Fortnite verrete bannati dopo non so un giorno due giorni Adesso non so come Epic Games funzioni, non so come bannano Però ragazzi veramente c'è pochissima gente che usa acco su Fortnite perché come vi ho già detto è illegale È molto difficile da... comunque da fare, da mettere le acco su Fortnite È molto molto difficile e ci sono veramente poche persone nel mondo che sanno come si mettono le acco su Fortnite Infatti queste persone hanno aperto un sito e esiste perché ci sono entrato per vedere comunque per il video Però non vi posso far vedere ragazzi ovviamente nel video E niente comunque potete pagare un prezzo di 10-20 euro e ottenere le acco Poi loro vi spiegheranno come metterlo dentro al gioco Apparentemente ci sono dei file e niente potrete giocare a Fortnite con le acco Ma non solamente a Fortnite, tutti gli altri giochi per esempio come Apex e Volerant Niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Niente scusatemi se questo video è durato pochissimo Ma vi volevo praticamente, non so, fare un riassunto Di come, se è possibile e di come fare Niente, noi ci vediamo al prossimo video Niente, noi ci vediamo al prossimo video Niente, noi ci vediamo al prossimo video